ciao amici come state come avete passato la prima settimana di autunno beh simona per adesso bene niente malagni bene e voi amici tenete botta o avete già preso i primi raffreddori e la febbre non so se ve l'ho detto io sono cresciuta in montagna sulle dolomiti a cortina un posto bellissimo e da ragazza facevo tutti gli sport invernali come tutti lì mia mamma mi diceva sempre copriti che prendi freddo adesso mi guarda e mi dice ma quanto sei vestita perché ho imparato a vestirmi a strati e cerco di stare calda il più possibile comunque quando ho studiato naturopatia ho scoperto che dietro la saggezza popolare dei nostri vecchi che dicevano stai coperta c'era un vero messaggio di salute che oggi anche la scienza approva ma senti simona perché a me quando ho freddo viene la pelle d'oca e a squaletto gli viene la pelle da merghezzo la pelle d'oca è una reazione antica quando i nostri antenati erano ricoperti di peli come una pelliccia serviva a sollevare questi peli che diventavano più compatti e quindi isolavano oggi un sacco di domande i popoli nordici sentono freddo come noi io non credo perché sennò andrebbero in giro tutti come l'omino michelin a salsicce infatti secondo la rivista science i popoli nordici resistono meglio al freddo grazie al loro dna loro hanno ancora geni ereditati dall'uomo di neandertal pare che questi rendano il metabolismo cellulare più efficiente beati loro ma vengono solo i brividi tranquilla questa settimana vediamo come affrontare il freddo autunnale se vi piace l'idea mettete un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video get ready with me come mi preparo io alla mattina per andare al lavoro lo facciamo insieme così potete farlo con me se volete che faccia diversi video di routine e lifestyle fatemelo sapere votando nel sondaggio che trovate cliccando sulla piccola i aprite e votate quali sono i migliori cibi anti freddo quelli che potenziano il sistema immunitario per seguire in anteprima tutti i miei video basta iscriversi al canale è facile con un click così è attivate la campanella delle notifiche ora condividete i video sui social facciamo grande questo canale insieme scrivetemi nei commenti come sempre e non perdetevi i miei video per essere sempre trendy e sani con simona vignali naturalmente mi aspetto presto ciao ciao